Sono stati celebrati ieri alla presenza di un migliaio di persone i funerali di Pamela di Lorenzo, la donna di Alba Triatica deceduta a causa delle lesioni provocate da un fulmine che la mattina del 3 agosto l'aveva colpita. Le seque della giovane mamma di 41 anni si sono tenute nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Villafiore, nella cittadina costiera. La folla ha voluto salutare per l'ultima volta Pamela, con fiori, corone, palloncini bianchi e colombe in volo. Nel frattempo proseguono le indagini sui soccorsi, in particolare sul ritardo dell'ambulanza e sulla mancanza di un defibrillatore nelle vicinanze. La procura di Teramo sta acquisendo i documenti utili. In particolare il PM Enrica Medori ha disposto l'acquisizione delle schede di intervento del 118 e dell'audio delle telefonate intercorse tra la prima chiamata e l'arrivo dei sanitari sul posto. I familiari della vittima chiedono di verificare se la causa della morte di Pamela sia da attribuire alla lentezza dei soccorsi, arrivati a circa 30 minuti dalla prima chiamata. L'assenza di un defibrillatore nelle vicinanze è uno dei motivi di indagine, visto che l'apparecchio doveva essere a 200 metri dal luogo della tragedia, ma per i lavori sul manto stradale del lungomare Marconi era stato spostato a 500 metri. Nel frattempo sono arrivati i risultati dell'autopsia, eseguita dal medico legale Giuseppe Sciarra, utile alle indagini. L'esame ha accertato che l'arresto cardiaco causato dalla scarica elettrica ha provocato una nossia, una mancanza di ossigeno al cervello, con danni cerebrali irreversibili.